Ragazzi sono incazzatissimo in questo momento, forse non lo sembro ma lo sono davvero Perché avevo appena finito di registrare il video e ovviamente scopro che non mi ha registrato lo schermo Avevo fatto la blind deck challenge con 3 vittorie, davvero una più assurda dell'altra Potrei anche farvi vedere le play ma non sarebbe corretto secondo me Con 2 appunto sconfitte Quindi iniziamo subito, anzi scrivete voi qui sotto nei commenti secondo voi a quante vittorie riusciremo ad arrivare Ne ho già fatte 3, 2 ne ho perse quindi abbiamo una sola altra possibilità Andiamo subito a vedere come ci comporteremo quest'oggi Eeeh ragazzi il nome è una garanzia, si chiama Diki Cioè non so può essere definito come piccolo pisello, non lo so perché sono tipo Dike e pisello appunto Piccolo pisello magari, ok vado da questa parte e magari così lo bloccano, ok e non muoiono neppure Vado con il gigante royal da questa parte avanti almeno così abbiamo un po' di robe Va bene, così viene beccato Va bene, va benissimo così, va benissimo così Perché viene beccato il gigante royal E alla fine ci sono i goblin che fanno i loro sporchissimi danni Grandissimi, tantissimi danni userei dire Vai, 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 vai Vabbè tanto la bomba la fa fuori lo stesso Infatti la bomba, cioè ragazzi è la prima volta nella mia vita che mi è servita la bomba della mongolfiera Cioè davvero di solito è sempre la cosa più inutile che esista Perfetto, noi ci buttiamo i goblin qui che faranno il loro sporchissimo dovere A questa parte poi il gigante royal perché anche lui deve fare il suo sporchissimo dovere Non ci dovrebbe arrivare E invece ci è arrivato perché è una grandissima merda Spera che becchi il miner Vai, 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 vai Sì pure il telefono scarico mi manca oggi Davvero è l'unica cosa che mi manca ormai Ok, ok adesso vai, vai, vai che non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva Non ci è arrivato, manco oggi non ci è arrivato ragazzi Anche oggi ci arriva domani E quella torre sta per cadere 3, 3, 2, 1 Ciao torre Ciao torre, ciao E anche il signor Diki Non so se l'hai preso tanto quanto il suo nome praticamente Infatti piange Ciao, ciao, ciao Diki Ciao Diki È stato un piacere giocare con te In realtà no, sono cativissimo ma si fa per dire Ragazzi quindi scrivete qui sotto nei commenti secondo voi quante vittorie riusciamo ad arrivare Una l'abbiamo già vinta Quindi è vero, non so, scrivete Arrivi a 5, 6, 7 oppure non ne vinci più di una E ovviamente chi dovinerà Riceverà una fantastica polpetta al sugo Fatta direttamente da mia zia Carmela Che però Con le poste italiane Con i tempi che ci vogliono Non so quando possa arrivarvi Ok siamo contro Asim dei Pujabiz Ok lasciamo perdere il nome così abbastanza Stratto e strano Ma vediamo un attimino quello che accade Accade che c'è subito un mastino Solo che 7 dei risili sono davvero tanti Ok lui ha buttato Gigante da dietro Quindi si va di mastino E finisce così la storia Ragazzi qualcuno mi può spiegare Come dovrei buttare giù robe come il gigante Se tu non mi dai robe per buttare giù il gigante Porca di una miseria Cioè davvero io Il mastino non becca le truppe Il Come che si chiama Il golem non becca le truppe La principessa fa schifo a chiunque Cioè nel senso non ha tanta vita la principessa Per questo intendo fa schifo Cioè non è che fa schifo come carta Però non ha vita Quindi è un problema Cioè contro questo tipo di deck del mio avversario È un problema la principessa Ok ragazzi si continua Dobbiamo spingere Spingere Spingi 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 Dai 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 una torre Pili la torre 10 secondi Sì Sì ragazzi la torre l'abbiamo presa La torre l'abbiamo presa Non dobbiamo dargli tre Altrimenti è davvero un grosso problema per noi Va bene Cioè in realtà continua a non andare bene Manco adesso ragazzi È ancora un problema È ancora un problema Ci sta a buttare roba Ci sta a buttare roba Non buttare più roba Smettila 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 Sei cattivo E ci becchiamo Un bel baule da torneo Da aprire tutti insieme Allegramente soprattutto Quindi Un tre moschettieri Ok Undici bombaroli Ci sta alla fine Ci sta ragazzi E direi di aprirci anche due free chest Perché tanto sono gratis Noi siamo Non so Siamo degli accattoni praticamente In termini di gemme E di bauli E quindi apriamoci questi due Free chest Ma siccome io sono Così masochista Da mangiare il polpettino di zia Carmela E da avviare un nuovo torneo Facciamo subito altre battaglie Così con i blind deck challenge Cacchi e mazzi vari Ok Siamo contro tipo un russo E mi viene il principe di ghiaccio Non so Io vedo una relazione Tra principe di ghiaccio E russia Poi ditemi Se anche per voi È la stessa identica cosa Vedo un bel po' Di roba pesante Da quel lato Quindi devo lanciare Per forza roba Su quella lane Perché Perché si ragazzi Al t Ai 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 E questo è un problema Ottima mossa Da parte del nostro avversario Ok Quindi vado Anche con I tre cosini qui Va bene Va bene Va bene Quel golem Farà davvero tanti danni Appena Appena schiatta Lo so Anche l'altra lane Non è che è messa Molto meglio Eh vabbè Ma ti pareva Che doveva arrivare La palla E dai E dai Maledette Pallucce di fuoco Maledette Siate voi Maledette Maledette Il giorno In cui vi hanno creato Ok Lui ha buttato No Ho il telefono scarichissimo Ho bisogno di metterlo a caricare Non c'è il caricatore È un problema È un grossissimo problema Questo ragazzi Perché se si scarica il telefono Perdo anche questa registrazione Sì ragazzi Perché se non lo sapete Questa è la seconda volta Che registro questo video Dov'è Dov'è il caricatore Eccolo qui Ragazzi Scusatemi Però c'ho il caricatore Vicino al letto E sto perdendo Una torre L'altra torre Porca miseria Butta questo Butta questo No No Mi si è bloccato il telefono Non ci credo No 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 dai Non lo fare 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 E dai E non è possibile E mi spieghi io Cosa dovrei fare Voi Dite Ora qui sotto i commenti Se sono O meno Sfigato Cosa minchia ridi Che avevo il telefono Scarichissimo Come la merda Perché devo registrare 8 volte Lo stesso video E tu adesso Mi ridi Come per dire Che ho fatto La giocata Da pro No Tu hai fatto Davvero La sculata Da pro Eh si Vabbè Il nome più Incomprensibile Degli ingredienti Che stanno Dentro il polpettone Di zia Carmina Probabilmente Ok Deck Sempre più strani Mi vengono Va bene Va bene Va bene Va bene Gigante royal Davanti E la paura Si vede Già che arriva Dentro proprio L'animo Del player Mi spiegate Perché ho un deck Che con Sia il gigante Che il gigante Royal Ma Ma che Che cose Sono fumati Prima di fare Questi deck Davvero Non lo so Facciamo il trenino Gay ragazzi Tutti i maschioni Tutti i maschioni Sulla stessa lane Pe 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 Il cimitero Il cimitero Distrai tutti Non è vero Non distrai un cazzo di nessuno Sto cimitero E sto pure perdendo la torre Ma dai Questa Questa cosa Non ha senso Non ha senso Ma perché le loro truppe Fanno più danni E 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 Vai gigante royale Siamo tutti con te Gigante royale Prega per noi Ok Ok Allora Butta giù quella torre E ancora Continua a non buttare giù Gigante royale Ma che cos'hai Che cos'hai gigante royale Davvero Hai bisogno che qualcuno ti dopi Perché così fai veramente schifo Vai ok Ok Gli scheletrini sono andati Ma stiamo perdendo di nuovo Ok Mi devo per forza girare Per forza di cose Perché Ma Porca di una miseria Poi uno dice che non devo lanciare Roba Ok Sembra che Non so da dove lo cazzo Ho facciato a questa roba Ma Io spacco in due tutto Spacco in due tutto ragazzi E E Evidenti il momento In cui Mi viene da spaccato Cioè Allora Perdo Il telefono mi si scarica O Gente con deck Improponibili E sono Così a caso Ora voi mi dite Io cosa devo fare con il deck Che fa il trenino gay Mamma mia ragazzi Ok Ultima possibilità per vincerne almeno una Davvero ragazzi Non lo so Ho un ebro Che sta per scoppiare ormai Dai Dai i pugni Dai i pugni Io so che tu c'hai i pugni Nelle mani Cioè voi volete Proprio adesso Non lo so Prendere tutto Vero Volete prendere tutto Ma adesso io faccio così Voi vi distraete Poi ci metto il mini pecca E andate tutti a casa Perché così Allegramente E così che funziona Nella nostra vita No è un problema Potrebbe essere un problema Va bene Va bene Tanto con le frecce Qui si risolve tutta la situazione E ciaone Ciaone proprio Ha Le frecce tattiche Le frecce tattiche Dai 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 No le frecciatine Le frecce Smettetela Smettetela Ok ok Vado con il minatore di nuovo Che dovrebbe un attimino distrarre Quelle cazzosissime truppe Dai e Fate i vostri danni Fate il vostro giochi Fate il vostro gioco Marrani Ok vado di nuovo con il gigante Qui che va a distrarre Perfetto Truppettine Truppe ancora più piccole Vai con le frecce Vai con tutto No 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 E dai E dai E va bene ragazzi Purtroppo per questo video Effettivamente tutto Se è piaciuto questo video Gasate un bel like Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto Visitate anche la pagina Facebook Instagram Telegram Twitter Dicul link Sono sempre qui sotto In descrizione E noi quindi ci vediamo Magari in un prossimo video Ciao Grazie.